Qui conosciamo adesso Lorenzo Marchetti che insieme ad Altair d'Arcangelo è uno dei fondatori di Virgo. Intanto segui sempre o quasi le partite. Che gara hai visto Lorenzo? Sì, devo dire che io non ho mai seguito il calcio adesso, sto imparando a seguire il calcio, seguo il Chieti, bellissimo. Ovunque siamo, oggi stiamo arrivati dalla Svizzera. Bello no? A parte la pioggia. Abbiamo pareggiato. Sì, però il Chieti era andato per primo in vantaggio, peccato. Ma so che siamo primi in classifica. Sì, è un gruppone di squadra. Ah wow, bellissimo, fantastico. Un campionato davvero sempre più avvincente ed equilibrato. Vero, sì, sì. Io ti ripeto, sto imparando, poi è un piano e devo dire che sto scoprendo una nuova passione, mi piace. Senti, ti volevo chiedere, visto che ormai da alcune settimane, quando il Chieti gioca in casa, ci avete abituato a questi spettacoli, no? Vogliamo parlare, domenica prossima il Chieti tornerà all'Angelini. Chi ci sarà? Si può dire che ci sarà domenica prossima. Ce lo sappiamo, sì. Analisa Minetti, no, lei è fantastica perché comunque è un atleta che ha vinto diverse medaglie nei Paralimpici e ci tenevamo tantissimo che fosse con noi. Poi ne portiamo sempre questo programma che è di Rai2 con questioni di stile, dove prima l'ha intervisto, dopo arriviamo sempre allo stadio e sarà un bellissimo spettacolo. Ecco, ma questo fatto di abbinare sport e spettacolo, che già la parola spettacolo è insita nello sport, perché lo sport è davvero spettacolo, a chi è venuta? Guarda, sono delle sinergie che ci piace creare sia con Virgo Cosmetics, l'abbiamo fatto con la musica e in questo caso col calcio, sempre con lo spettacolo, comunque la musica. Credo che siano una bella unione e ho visto che porta anche tante donne a vedere le partite. Questa cosa di mettere davanti un po' prima la musica, la parte spettacolo e siamo contenti. Domenica sarei presente all'Angelini? Verrò, verrò.